Hi guys, falla galera Hola chicos, ciao ragazzi, bentornati nel canale di Alphix Ok ragazzi, oggi chi è questo? Un clone ragazzi? Gabriel Bravo, sono io praticamente Mi ha copiato in tutto Questa gara, Panto Pinball Che è tutto, praticamente dovrebbe essere Non so se avete mai giocato sul sistema operativo Windows Pinball Credo che se non lo abbiate mai giocato Non avete avuto una bella infanzia, diciamo Quindi vediamo come sarà sta gara Ovviamente col contatto e ovviamente la gente già inizia ad uccidersi E a sfrantumarsi, io per primo Siamo primi intanto, quel rimbalzo lì sull'albero ci ha vantaggiati Che dire raga, raggiungiamo almeno i 1500 like Sapete che è una meta che è possibile raggiungere Mi raccomando, fatemi sentire il vostro supporto, soprattutto voi italiani E fatemi sapere nei video se vi è piaciuto questo videozzo Ok, iniziamo la salita raga E non ce la fa la macchina Vi giuro che non ce la fa Sto premendo al massimo a tavoletto A tavoletto Ok, iniziamo così Iniziamo a registrare, magari dopo abbiamo una bella miniatura Che cosa è qui? Uff Oh cazzo raga Oh cazzo ragazzi Piano, 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 piano Oh, qui sono, sto perfetto Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio Già il primo colpo Guardate quello Che culo Già l'ha fatto? Vabbè raga, l'abbiamo fatto anche noi Siamo primi Bene così, andiamo Andiamo, perfetto, perfetto, perfetto così Pensavo fosse più difficile, pensavo, in realtà Ma perfetto così, dai Siamo primi Abbiamo Scrimpy Lion secondo Secondo E andiamo subito a concludere questa gara Quanti checkpoint sono? 22 checkpoint Cerchiamo di stare calmi e concentrati In questi vicoletti con la nostra smartina Giallo evidenziatore, così bella tamarra Bella simpatica Chiudiamo qui la curva, perfetto Intanto Ivan si suicida Ok raga Siamo quasi arrivati al traguardo Ci manca l'ultimo checkpoint E andiamo a vincere questa carrozza Ci vediamo subito alla seconda gara raga Sono entrato in elenco di qualcuno che forse voi italiani conoscerete Ed è proprio lui alla mia sinistra Ora vedrete il nick Non so se l'avessi riuscito a vederlo Sì è lui È Degsta Il nostro caro amico Degsta Non l'ho fatto a posto Sono da sbattere contro una maniera Dir poco disumana Ma raga spero in futuro di portare anche questo Mi ci butta dentro proprio al muro Cercherò di portarvi una collaborazione diretta con lui Ovviamente con la sua voce Siccome non ci siamo organizzati Accontentatevi di questo Di queste gare Cerchiamo di andare a vincerne qualcuna Intanto prendiamo un po' di scia che non fa mai male E recuperiamo tantissime posizioni Curvona qui Guardate che macello Che macello Per fortuna andiamo a prenderla bene Buttiamo per l'aria a qualche altra persona Siamo secondi Dietro poll Polli Polli 149 Qualcuno dietro prenderà la scia sicuramente No Per cortesia Non mi uccidete Vedo la gara è incredibile Vedo la gara e la gente Direbbe marcio capatonda Ok prendo la scia non so da chi da cosa Bellissima ma l'auto Così viola Ok Curvone qui Non so se ho fatto bene o meno raga Non so Ah si ha fatto bene Era sotto Quindi ottimo così Siamo in seconda posizione Dietro poll Sempre lui Che fa questo Frena Andiamoci a prendere la prima posizione Eccolo qui lo stand raga Spero di aver scelto bene la T20 Cazzo ragazzi Non so che cazzo ha combinato Ma ci siamo Ci siamo E qua è automatico Automatico Quindi ottimo Ok perfetto così Andiamo a prendere il checkpoint Benissimo Siamo in prima posizione Bene così raga Ok Dex è tredicesimo Non gira benissimo Purtroppo All'inizio Se all'inizio Resti indischiato In quel In quel Demolition derby Lo potrei chiamare Dopo è difficile Recuperare Collegare col contatto Con questo Lag Che poi si trova GTA con i suoi server Comunque mi sa che c'è l'aiuto Giocatore in coda Perché l'auto Va molto più lenta Del normale No il palo è in pieno Ragazzi Il palo è in pieno Raga come vedete La macchina va molto più lenta Del normale Purtroppo E con l'aiuto Giocatore in coda Sono costretto A camminare così Sembra che c'è Tipo una lavatrice Sulla schiena Sul cofano Ok raga Siamo di nuovo Allo stanza Al secondo giro No Ti prego Speriamo che questa macchina Scompare Ok perfetto Vediamo se Riesciamo a fare Questo stanza Automatico Di nuovo Perfettamente Come prima Oh no cazzo Ok ci siamo Forse ci siamo E andiamo 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 Benissimo Prima posizione Mi hanno recuperato Purtroppo Un po' di tempo Il secondo Ma non è colpa mia Abbiamo comunque 11 secondi di stacco Quindi ottimo Cerchiamo di andare A concludere Questa prima carrozza In prima posizione Eccoci qua Il traguardo Raga Andiamo a concludere In stile In prima posizione Che dirvi raga Purtroppo La seconda gara Che ho fatto con Dexta Non è stata registrata Dallo share Della playstation 4 Mi ha trollato Praticamente Ma va bene così Ho preferito Non metterla Spero che il video Vi sia piaciuto Domani Metterò due video Raga Di cui uno è Epico Con una doppia collaborazione Che spero vi piaccia E anzi Sono quasi sicuro Che vi divertirà tantissimo Quindi raga Ci vediamo domani Mi raccomando Supportatemi Iscrivetevi al canale Soprattutto Parlatene Ai vostri amici italiani E lasciate Un bel like Arriviamo Circa Almeno a 1500 Dai ce la facciamo Un abbraccione Raga Galera Io non mi esqueci Non mi esqueci di voi Non mi esqueci di voi Voi sono le maggiori Non? Del mio canale Il problema è che io sono italiano E falo molto meglio Ovviamente In italiano Galera Disculpe Per questo Disculpe Ma Per le persone Che stanno Perguntando Continuamente Se Se io Quero fare Una parceria Con Pirata Io Quero Sì È Claro Ma Non so Se Se Eles Queren Ainda Fazer Isso Conmigo Perché Para mim Non è un problema E Para mim È sempre Un 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 No Sono sempre Honrado Se Vamos Fazer Isso Tá Galera Deixe O like Se Gostou Do Video E Falou